a lei franci stiamo pelando dal plato rosà siamo già alzati di un po tutto a posto claire materon sullo sfondo vai franci che ti raggiungo siamo nel pezzo ripido dalle piste sopra il plato rosà è un po velato barra coperto ma si sta bene non fa freddo bello bello come sempre ok boston ha deciso che piantiamo gli sci qua sta facendo cose come al solito è stata un'idea mia quindi tutti i cazzi miei facciamo vedere dove siamo ma allora sempre tutto brutto ma la verità è che c'è questa cappa sopra sotto si sta benissimo come temperatura meno 10 percepito meno 18 così diceva a 3b meteo però il 3b boston invece dice boh meno 5 percepiti 5 vabbè adesso andiamo sopra se non sputo i polmoni prima vediamo ci vediamo dopo a dopo dentro 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 lì prendi tutto così poi un polino con l'altra corda il solito tac giri una roba di genere sì così fanno passare e fatto al bretter occidentale prima volta per franci su primo 4000 in ski alp voleva mollare ma ce l'abbiamo fatta il sole è ancora alto adesso scendiamo e ci godiamo una bella sciata di 2000 metri si è aperto tutto il cielo sto facendo la mano meno 10 percepita meno 19 immagino e Grazie a tutti. Sciata al tramonto con le piste tutte nostre, neanche a volerlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.